Ambrosoli, ancora a Parigi, ancora una strage, a questo punto che fare? Ci attende un periodo complesso, lo sappiamo perlomeno dal 2001. Sappiamo quando abbiamo dovuto fare i conti con la capacità di alcuni di distribuire il terrore, inculcare la paura, basandosi sulle abitudini, sui comportamenti normali di tutti i cittadini, che non sono più esposti solo se vanno in una determinata realtà di per forse rischiosa, vicino a un conflitto, ma sono attaccati potenzialmente nel loro vivere quotidiano, da un nemico che si è infiltrato con abilità tale da riuscire a sfuggire molto spesso, troppo spesso, ai sistemi di sicurezza che abbiamo saputo costruire. Ci attende un periodo difficile, doloroso, lungo, che rischia di mettere a repentaglio che cosa, certamente la vita ci mancherebbe, ma rischia di mettere a repentaglio quelli che sono i valori sui quali si fonda, o alcuni dei valori sui quali si fonda, talvolta devo dire inconsapevolmente il nostro spirito europeo. siamo un continente che le divisioni le ha sapute superare con un processo lentissimo, le guerre di religione nel proprio interno le ha sapute superare con un processo lentissimo, un'integrazione ben superiore rispetto a quella della manualità unica la sta facendo in un processo lentissimo e difficile. Quello che si vuole è dividere, spaccare, impedire l'unità, perché l'unità dimostra la capacità di superare le differenze, dimostra la capacità di superare gli odi, dimostra la capacità e la volontà di vivere in armonia, quell'armonia che per alcuni è un nemico, che per alcuni è concepibile solo se è imposta con la forza, con la violenza, con il terrore. Ecco, dobbiamo abituarci a un periodo dove forse riflettere maggiormente su quello che ci tiene uniti per investire maggiormente sulla ricerca di libertà che quell'unità è destinata a garantire. Un'ultima domanda. Secondo lei è opportuno che si costituisca un tavolo con la comunità islamica a Milano, in Lombardia o in Italia per approntare un dialogo con questa comunità? Penso che il nostro nemico non sia nella comunità islamica. Io penso che il nostro nemico sia ai margini pure di quella, sia fuori da qualunque capacità di sedersi a un tavolo perché nega il confronto, perché supplisce al confronto con l'imposizione della propria idea, supplisce nel senso che in alternativa al confronto vuole l'imposizione della propria idea, della propria legge, della propria regola, non vuole mediare, non appartiene al mondo della mediazione. Allora forse il confronto, il tavolo con la comunità islamica ci serve in una prospettiva diversa. Ci serve per rafforzare il mondo islamico nella sua contrarietà a quel sistema, a quel modo di essere. Per renderci conto noi che il mondo islamico non è il terrorismo, così come non è stato il terrorismo, la sinistra italiana quando c'era brigatisti e quant'altro, non erano la stessa cosa. Non è che sedersi al tavolo col partito comunista allora potesse servire a eliminare il comunismo perché, scusate, eliminare il terrorismo perché il terrorismo faceva parte solo ispirandosi a quel nome di quel mondo. Sono due cose diverse, ma il dialogo tra le forze politiche è servito per dimostrare che esisteva un'unità.